ecco avete presente quel gioco che porta lukino king sul canale bene questa è la versione cinese ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono mister mario e oggi siamo qui su dream defense un gioco che ho trovato completamente a caso su su google play store allora da quel che ho capito store set dipende il suo praticamente difende il suo padrone in poche parole praticamente swan patak versione chinese versione ok il gioco è questo praticamente swan patak versione cinese la stessa cosa ok finisce il livello quando arriva il giorno allora vediamo abbiamo trovato i big money 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 diamanti 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 Cioè il cannone Il super cannone unicorno Veramente No vabbè Questo gioco è epico raga Praticamente è swamp attack Non cambia Cambiano i personaggi e tutte le cose Però quello è Però non volevo copiare Luchino quindi ho voluto fare un gioco Con un nome diverso Comunque Meglio che Oh no Ma che cosa io Ah Ah è vero che se tocco la pecora C'ho le robe Spara Muori male Sì ok ho vinto ancora Quella era l'ordata finale a quanto pare Vabbè Fucile paintball Sì ok Guardare gli spot pubblicitari Ma anche nozzi Altri big money 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 E vabbè Divento Manco gioco Manco paperon dei paperoni Cos'è oh C'ho 8000 Dio 8000 C'ho 8000 Potenziamenti vediamo Ok capito Ok capito No vabbè No vabbè Ora pure ci sparano anche Cioè è molto bello Multi uccidi Non multi uccisione Non multi kill Oh guarda una pecora No vabbè Guarda il tuo sedere Ah ok L'ho visto Ma com'è forte sto coso Cioè ho già vinto È facilissimo Ragazzi questo Cosa cosa del paintball Ah Dovete morire male Morite tutti malissimo Ok Abbiamo vinto Anche questa partita Quattro c Madonna mia Ma io c'ho il big money Ma no Ma io Io c'ho il big money Money Altri money Cioè io non lo so Altri money Giusto per dire Andiamo all'armeria Andiamo all'armeria Chissà che l'armeria Non è che funzioni Proprio tanto 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 Non funziona D'accordo Quanto costa una munizione Ok 38 munizioni Questo è equipaggiatissimo Ok abbiamo tutte le cose Che ci servono Ci sono le scarpe Ci sono le scarpe Io me le devo andare a comprare oggi le scarpe Ci sono in questo livello Non vogliono che arrivi lì Ho 40 Sto già morendo all'inizio Vieni là Ok Abbiamo vinto Altri big money Altri big money Manco a dirlo Altri big money Ancora Cioè Troppa roba Cioè Allora Ok Aspetta 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 Ok Invia Inviamo la pecora A vedere cosa Tipo Ma anche no grazie Non ci terrei a usare tutte le gemme che ho Io voglio usare l'armeria Vabbè Ultima partita Ok Questo Madonna Tanta tanta roba Multi kill Che poi a me mi dice multi uccidi Però Vabbè Iniziamo Abbiamo i gelati Uccidi tutto Ma ci sono solo queste pizze qua Uccidi tutto Sono morto Ragazzi Usiamo i gelati Madonna Quello era solo Wow Quando arrivano i pizzi Brucchi Abbiamo vinto L'ordata finale Faceva più schifo Di tutto il livello Però vabbè Abbiamo sbloccato L'arco Ad ardi Spara No Questo Questo è fortissimo L'arco È fortissimo È una roba indescrivibile Ah Stavolta un po' poverini Un po' poveri Stavolta Però Beh Allora Questo quanto costa Potrei darlo Compriamo un bel bel po' Di munizioni Ora Upgradiamolo Ah Non ce li abbiamo Ok Quante gemme abbiamo Abbiamo 21 Gemme Ma sì Dai Ce lo siamo fatti al due Facciamoci tutto questo qua Facciamoci un sacco Di munizioni 52 Dovrebbero bastare qua Ma anche no Grazie Comunque Adesso Ok Vediamo i potenziamenti Questo deve essere tanta tanta roba Comunque Andiamo con l'ultimo livello di oggi Dove abbiamo un sacco di equipaggi Ricarica Ma ci regalano anche la ricarica Proprio gentilissimi ragazzi Gentilissimi Il super cannone unicorno Il super robot deve essere una roba Uccidi tutto Perché sto usando questo Tutti sto uccidendo Ho preso la pecora Ho preso la pecora Ok È morta la scarpa Colpisci Uccidi Uccidi Bello ragazzi Incredibile Comunque È finito l'episodio di oggi Fatemi sapere se volete Altri episodi Su questa serie Se li volete Lasciate un like Iscrivetevi E Iscrivetelo qua sotto Comunque Ragazzi Iscrivetevi anche Al canale Di Lucky Lucky Che trovate Nelle mie Ah Madonna Ma sto gioco È gentilissimo Money 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 Madonna Quanta roba Quanta roba Quanta cavolo di roba Questo me lo devo fare Ok E ce l'abbiamo al 2 Che ci serve Tanta 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 Tanto Compriamo un bel po' Di munizioni Che ci servono Arriviamo A 60 Dai 60 vanno bene Qua 25 Sì Ok Ci richiede ancora Di farlo Ok 40 colpi Andrà bene Ok D'accordo ragazzi Per oggi Può essere Tutto Ma questo L'ho fatto Prima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ma Ni No Grazie a tutti.